A noi fa un gran piacere, a noi Valtiberini, di sapere che San Francesco lasciò Assisi per venire a prendere le stimmate nella nostra provincia e nella nostra vallata, Laverna. E che ci possiamo fare se perfino il babbo di Michelangelo venne a far partorire a proposito di Madonna del Parto sua moglie a Caprese, non del nome, Caprese Michelangelo.